Tra i quartieri più settentrionali della città siamo andati a San Bortolo, ricco di verde e di servizi rivolti alle famiglie, dove i residenti rilevano la sostanziale tranquillità della zona, ma puntano sulla necessità di una maggiore vitalità e coinvolgimento dei cittadini. È un quartiere tranquillo. Mancano gli eventi, gli eventi culturali, gli eventi sociali. Una volta c'erano i comitati di quartiere. La gente non partecipa, quindi... Quindi mancherebbe un po' di partecipazione. Manca la partecipazione sia come attività di quartiere sia nel sociale. Cittadini che abbiamo incontrato nella zona del mercato rionale settimanale, che chiedono un maggior numero di parcheggi. I parcheggi mancano e anche un po' di pulizia, basterebbe nei piazzali. Vedo tante immondizie, tante biciclette abbandonate, quelle elettriche, che li abbandonano dappertutto. Le ciclabili anche perché sono usate dai ragazzi che vanno a scuola, sia qua che al liceo, ed è anche abbastanza frequentata durante l'anno scolastico. Sono gli adulti che la usano poco. E poi il nodo viario di Viale Dalverme, molto trafficato. Passano camion e tir di tutti i tipi, trasporti eccezionali con grossi getti di acciaio sopra, velocità al mattino non conforme, gare di moto e questa viale Dalverme.